Le società di Lega Pro vogliono giocare. La protesta dell'asso calciatori non è piaciuta ai vertici di moltissimi club di prima e seconda divisione. Società che hanno già fatto mercato, hanno già composto al 90% i gruppi a disposizione dei rispettivi tecnici in base alle regole stabilite. Tornare indietro sarebbe praticamente impossibile e molti non vogliono tornare indietro visto che la regola cosiddetta degli under 25 garantisce per chi la osserva un bel gruzzoletto che di questi tempi può essere vitale per le casse sociali. La minaccia di sciopero dell'AIC appare, ora dopo ora, sempre più una decisione inopportuna, giunta tra l'altro fuori tempo. E allora, venerdì sera, il debutto del campionato di Lega Pro previsto al San Francesco di Nocera Inferiore dovrebbe esserci regolarmente. Nocerina e Perugia dovranno stare sul chivalà almeno fino a giovedì, quando dovrebbe essere presa l'ultima decisione durante l'assemblea di Lega. A mediare intanto sulla questione il presidente della FIGC Abete. Nella nazione dei compromessi, degli accordi trovati in extremis, ma anche delle guerre di potere intestine, c'è da aspettarsi comunque di tutto e il contrario di tutto. Il tecnico della Nocerina Fontana intanto non vuole farsi trovare impreparato. Sa che il match spot andato in scena con l'Avellino è soltanto un punto di partenza. Con il Perugia sarà altra storia, con i grifoni che hanno cambiato manico, tornando a Camplone, i Molossi tra l'altro si ritroveranno ancora incompleti per questa partita. La maglia numero 9 non ha un titolare fisso e mezzo qualcosina si potrebbe ancora fare. Per la terza linea ci sono ancora parecchi dubbi. La situazione De Franco resta in stand-by, mentre negli ultimi giorni il DG Pavarese ha effettuato soprattutto operazioni di contorno, cioè di secondo piano.